ciao super tecnicamente fantastici e bene sei arrivato a us 16 con le sue solite novità non proprio una rivoluzione a 360 gradi ma novità veramente importanti una rivoluzione soprattutto nella modernizzazione del sistema operativo nelle notifiche e in tante cose che io aspettavo da tempo un meteo vivente ecco mi partirei con questa mia definizione che sono un amante dei meteo la prima novità importante di us 16 la possibilità di avere i widget finalmente nelle nostre schermate di blocco e vedete il widget meteo come stile android apparirmi nella schermata di blocco meteo sì personalizzabile vedete possiamo modificare il meteo la sua posizione attuale eccetera eccetera oppure tornare al widget ma questi widget vedete scorrono quindi possiamo utilizzare anche le mail anche altre tipologie di funzionalità e le nostre app preferite le nostre cose insomma anche l'apple store quindi per poi tornare al meteo quindi un widget che scorre ea 7 8 funzioni che poi sono programmabili dal meteo alle app alla mail al calendario insomma a quello che vogliamo vedete mantenere all'interno della schermata di blocco quindi una genialata perché non è solo il meteo ad entrare ma scorrendo posso sostituirlo con altri con altre tipologie di widget e poi se tengo premuto finalmente posso aggiungere altre schermate di blocco vedete altri widget del maps delle carte personalizzate anche delle spese qr insomma si può veramente mettere tutto anche l'orologio quello del mio apple watch e vari quadranti utilizzare come widget direttamente su iphone o cercare il widget preferito quindi l'aggiunta di più widget è veramente una cosa importante ma soprattutto anche l'aggiunta di più schermate di blocco quindi possiamo creare più schermate e quindi andare ad aggiungere oltre ai widget schermate di blocco aggiuntive questo lo possiamo fare da qua vedete puoi aggiungere ulteriori schermate di blocco ma una cosa che forse non vi è balzata l'occo ma me sia la nuova il nuovo sfondo col meteo live cioè possiamo ottenere questo sfondo che indica la situazione meteo attuale e utilizzarla come sfondo proprio del telefono quindi non solo il widget meteo che scusate qua adesso si è spostato è andato nell'apple store non sono i vari widget scorribili tra i quali il meteo che a me interessa ma anche la sfondo live quindi poter utilizzare anche il meteo come sfondo questa era una delle importanti novità che ci permette di avere più personalizzazione come piace a me nei telefoni ma guardate la schermata di blocco nuova con le varie notifiche a scorrimento che poi vengono da qua sotto vedete se scorrete arrivano ovviamente le notifiche poi le possiamo eliminare e io le ho messe a elenco poi si possono mettere anche i singoli ma anche qua schermata di blocco meteo live io sono un amante dei meteo abbiate pazienza vedete soleggiato ora la situazione meteo attuale condizioni dell'area tutte le notifiche che qua possiamo scorrere e ci vengono qua le attività le possiamo addirittura adesso silenziare persone singole nella messaggistica se vogliamo silenziare determinata persona e leggere poi le notifiche senza che ci sia appunto un avviso di suoneria quindi personalizzazione anche della persona a cui vogliamo silenziare nelle notifiche oltre ad avere tutte le notifiche qua adesso andiamo a sbloccare poi altra cosa importante qua nelle impostazioni ecco qua nelle notifiche possiamo scegliere elenco raccolto o conteggio quindi poi qua scegliamo noi come vogliamo mettere le notifiche in quella nuova schermata di blocco con il meteo live tutte le belle chicche che sono state messe a disposizione da apple ma poi una novità è questa mi sento di dire anche da segnalare il feedback della tastiera possiamo aggiungere la vibrazione alla tastiera cosa che prima non era possibile per gli amanti del vibro sul dito io non sono uno di quelli lascio solo i suoni e addirittura li tolgo anche perché mi piace che la tastiera non suoni e non vibri al massimo suoni però la vibrazione sulla tastiera tic il feedback il feedback haptico adesso finalmente questo feedback haptico è applicabile anche alla tastiera sui os quindi altra cosa da non sottovalutarete le notifiche la schermata di multitasking velocissima come potete vedere nessun tipo di problema si va via tutto velocissimamente il nuovo apple store beh rinnovato ancora veloce già improntato per i s16 vedete va tutto a velocità molto elevata come tutti gli iphone sono ottimizzati sono 12 un iphone 12 ma comunque gestisce molto bene la situazione già aggiornata i s16 diciamo che gli ultimi modelli dal 12 al 14 hanno tutti diciamo goduto di un miglior di miglior prestazioni anche deve s16 perché sono ancora con un hardware più improntato questo tipo di sistema operativo c'è dal 12 in su l'architettura è cambiata completamente sono più simili dagli 11 in giù godono comunque di tutte queste opzioni molto beneficio anche a livello di hardware ma non prestazionale diciamo migliorano leggermente nelle prestazioni questi migliorano molto nelle prestazioni con gli us 16 rispetto a diciamo al vecchio il passaggio diciamo generazionale è stato dal 12 in su proprio dove è cambiato un po tutto fino all'11 erano un pochino più old style anche sono non buoni buonissimi pensate che io persone che hanno ancora gli iphone 8 che vanno benissimo magari come gli us 4 e us 15 quindi sono telefoni eterni gli iphone questo già lo sappiamo beh anche la categoria messaggi comunque ha subito delle innovazioni oltre la tastiera possiamo addirittura poi mandare un messaggio annullare l'invio o correggere il messaggio inviato in modo da dare una correzione live voi pensate anche questa funzione che prima non c'era oltre oltre a far apparire tutte le opzionalità l'apple store l'audio insomma da poter inserire la fotocamera come sempre tutte le attività e poi ovviamente la tastiera rinnovata anche con lo swipe vedete di colore trasparente poi possiamo personalizzare il colore dello swipe in altri modi ma la possibilità anche di avere la vostra vibrazione se proprio volete sulla tastiera il solito emoticon per il resto è rimasto abbastanza diciamo quello che era prima altra novità nelle note le note anche qua subiscono un restyling diciamo un miglioramento ecco vedete qua possiamo tenere premuto e avere subito un trova selezione oppure partire e fare subito un qua aprire una nuova nota personalizzarla a parte i colori dei vari pennini su cui possiamo già agire avere il solito discorso io lo voglio blu me la metto blu fine e scriverò in blu fine o in blu grosso insomma questo poi è uno scarabocchio ma possiamo fare tutto quello che vogliamo poi possiamo assolutamente personalizzarla inserendo foto o video scattare video scattare foto scansionare testi veramente tabelle ovviamente tutti i font personalizzabili o non vedete queste diciamo un fonte normale poi posso mettere il grassetto posso fare tutto quello che voglio avrò già il grassetto insomma veramente la nota rapida anche da poter inserire subito quindi anche le note possono oltre ad essere multimediali con foto video audio anche avere disegni molto precisi ma soprattutto la possibilità anche di fare le note rapide quindi anche questa ulteriore novità avete multitasking sempre molto veloce insomma un sistema operativo che ha subito un bel restyling una cosa molto importante il tasto cerca qua sotto questo tasto multiplo oltre a diventare tre pallini quindi a muoversi nelle schermate dove noi possiamo creare anche poi come vedete schermate nuove vedete più schermate più widget personalizzare tutto diventa anche il tasto cerca quindi andiamo a cercare in internet qualsiasi cosa se cerca esco cerca quindi possiamo andare a cercare qualsiasi cosa ci possa interessare da questo punto di vista da internet sia dall'interno del telefono che su browser web o improntato a ricerche esterne da questa parte troviamo sempre i soliti widget personalizzabile anche qua possiamo modificare aggiungere tutto quello che ci interessa vedete alla grande quindi sono notizie di google notizie di altro promemoria e maps e possono anche qua possiamo veramente sbizzarrirci nel mettere mettiamo le news che a me interessa aggiungiamo il widget ecco il widget delle news è arrivato tac abbiamo sempre le nostre news aggiornate qua poi ci possiamo entrare andare direttamente a la pagina delle news quindi tutto veramente molto personalizzabile molto veloce molto pratico come sempre ma secondo me questo di s16 segna un passo importante in avanti molto importante in avanti quello della personalizzazione cioè finalmente un ios personalizzabile cosa che prima non era mai esistita widget nella schermata è vero sono cose che android fa da tempo apple arriva dopo ma apple arriva sempre dopo da un certo punto di vista sulle cose diciamo sulle chicche software diciamo più di personalizzazione meno importanti apple arriva prima nelle genialate diciamo hardware nel migliorare sistema operativo nel rendere veloce con 4g con un telefono come se ne avesse 12 capite cioè da quel punto di vista nel suo ecosistema nella sua hardware nell'ottimizzazione dei suoi telefoni del suo sistema operativo e primo nelle chicche arriva un po dopo l'esempio l'olison display che c'è adesso anche sui nuovi iphone c'è da sempre in android anche widget ci sono da sempre android ma apple ci è arrivata nel momento in cui doveva arrivare ecco che forse era questo e non era prima perché loro sanno quello che devono fare probabilmente il fatto di non aver inserito prima per esempio i widget era perché forse la diciamo i telefoni precedenti non erano pronti a questo sistema operativo per questa architettura hardware per questo per questa modalità quindi queste modalità dovranno partire adesso con questo sistema operativo in questo momento per i dispositivi che possono utilizzarle quindi c'è tutto un perché diciamo che in certe cose arriva dopo ma arriva meglio studia gli avversari e poi gli ottimizza meglio se riesce qui è un po arrivare dopo ma bene e invece sull'ottimizzazione del sistema operativo è sempre in prima posizione veloci rapidi e con un ecosistema sempre funzionante con l'usabilità che non ha è uguale da quel punto di vista un us16 che secondo me segna un passo importante in tutte queste cose personalizzazione delle schermate widget più personalizzazione anche della schermata di blocco col meteo dinamico le notifiche che ci escono qua sotto tutte elenco il meteo live insomma tante cose che incominciano a farlo diventare un po più android ma sempre in stile ios quindi sempre in stile apple ragazzi per questo video è tutto io vi do appuntamento alle prossime ai super tecnicamente fantastici ciao e grazie come semplice sì come semplice e grazie come sempre us16 sicuramente promosso direi la miglior versione per personalizzazione soprattutto ad oggi ciao e grazie ragazzi un bacio